Il piano di rientro, così come va bene? Beh, volevamo dirlo se andava bene, è che non l'abbiamo visto noi questo piano di rientro, non ci è stato consegnato, ci sono anticipazioni sui giornali, lo stesso Presidente utilizza una sede lombarda per quantificare anche il debito, questo misteriosissimo debito della sanità, ora sceso pari a un miliardo, mentre prima era due miliardi, una cosa... Quindi non c'è concretamente il progetto, la proposta del governo regionale, quello che però è necessario dire, noi ne abbiamo parlato quella mattina alla mezza con molta serenità, cioè noi usciamo adesso da 15 anni di ritardi nella gestione, nella politica sanitaria calabrese, 15 anni di ritardi che adesso rischiano di essere pagati amaramente, pagati dalle piccole strutture sanitarie che giustamente la gente difende, ma molte delle quali hanno meno ragione di esistere. Però bisogna dire una cosa, sulla sanità non si può fare lotta politica, sulla sanità dobbiamo assumerci tutti le responsabilità, condividere le scelte e contribuire a migliorare questo servizio, ma noi non sappiamo nulla in effetti di questa sanità. Adesso, ad oggi, quant'è il debito? Si faranno o no i quattro grandi ospedali in Calabria? Al momento non se ne parla più. Dove sono finite quelle risorse? C'erano risorse stabilite? Dove sono state dirottate? Ma come si fa ad andare in un territorio e dire, vi chiudiamo quattro ospedali, poi dovete andare a Cosenzo, a Castrovillari, ma non vi apriamo l'ospedale zonale? Come facciamo? I collegamenti, la gente ha paura, la gente perde nei comuni tutto, perde lo sportello postale, la farmacia non c'è più, va via anche il rifornimento di benzina, non c'è anche più il prete. Noi abbiamo i parroci che vanno a scavalca a 5-6 comuni, piccoli comuni, le aree interne, la Calabria è fatta per lo più di aree interne, di piccoli comuni, poi una diecina sono i comuni al di sopra dei 15 mila abitanti, forse di meno. Allora, a questa gente bisogna parlare, il limite che ha commesso Scopelliti, che ha scoperto, è di non aver parlato con i sindaci, di essere stato costretto dopo le occupazioni delle strade. Sono venuti anche a Roma 25 sindaci dell'Ionio Cosentino a parlare, a discutere, l'abbiamo fatto incontrare anche con qualcuno per poter dire qualcosa, ma la gente si parla, si spiega, cioè non si può fare un piano di rientro e quindi poi un piano sanitario contro i territori, contro i sindaci, contro gli amministratori locali, da Pai a Mare, a Trebisaccia, a Cariata, tutte le aree interne. Bisogna parlare, bisogna discutere, spiegare e lasciare anche una speranza, non si possono chiudere così dalla mattina alla sede le strutture. Scopelliti non parla di chiusura, ma di riconversione. No, io vorrei, le potrei dire una serie di, a memoria, perché siccome ci ho fatto un commento, di cose che ha detto Scopelliti. Il 20 giugno ha parlato di 3-4 ospedali che sarebbero chiusi, lui usa la parola chiusura, a luglio diventano 10, poi dopo ferragosto a fine, no ma probabilmente non più di 5, la settimana scorsa parla di 18. Poi esce una nota e dice, no ma noi chiudiamo 5-6 subito, l'altro fra un anno, ma vogliamo capire cosa facciamo. Se noi giochiamo con questo balletto di numeri, questi balletti di cifre, questa inconsistenza nell'affrontare il problema, affrontando con troppa leggerezza, utilizzando telecamere, palchi, scene e quant'altro, senza affrontarlo nella sede istituzionale, col concorso dei partiti, delle amministrazioni locali, dei sindacati, con le esperienze che ci sono in questi nostri ospedali, che sono tantissime, ai quali bisogna discutere. La sanità calabresa ha punti straordinari di eccellenza, ma anche punti che sono diventati un pericolo. Ci sono carenze notevoli, mancano strumentazioni, non ci sono risorse umane, in molti ospedali mancano medici, mancano infermieri. Allora è chiaro che in questo clima dobbiamo capire dove vogliamo andare, su cosa puntare, quali sono le eccellenze, cosa fare dei piccoli ospedali del territorio, ma si discute, senza starci altri 15 anni. Quindi voi contestate questo? Questo è il metodo, perché non conosciamo, non sappiamo e non abbiamo discusso. Io so che lo ieri aveva presentato in ritardo e probabilmente con carenze un suo piano di rientro, che aveva approvato il governo nazionale di destra, che aveva consentito di non arrivare ad una gestione commissariale. Scopeliti fa il contrario, si fa commissariare, o non so se gli impongono il commissariamento, il che costa tantissimo, alla Calabria costa tantissimo in termini di risorse, in termini di mancati investimenti, in termini di tagli di personale che ci saranno e non si potranno fare nuovi investimenti, non si potranno fare nuove assunzioni. Senza regime commissariale era il Consiglio regionale che poteva ragionare e discutere, questo il governo nella nostra scorsa legislatura, ma con Berlusconi presente, aveva approvato il piano di rientro. Ora però, cosa facciamo? Scopelite il commissario. Ma un commissario può da solo immaginare di accollarsi tutte queste responsabilità e di decidere? Non può, tanto più che dopo la rivolta dei territori hanno capito e noi gli abbiamo chiesto e gli chiediamo fermatevi, ragioniamo, ci diamo due mesi di tempo e partiamo con un chiaro condiviso. Quindi il dialogo con i territori, con i cittadini, con i medici, con i politici, con i sindacati, ragioniamo. Ma ci diamo due mesi, non ci dobbiamo dare, perché la situazione è grave. Nel frattempo vediamo questo benedetto deficit, perché se tu non conosci che debiti hai, la consistenza del debito, come lo fai un piano di risanamento? Una qualunque azienda sa i debiti, sa i crediti, fa un piano e tenta di ricominciare, di ricostruire un'attività. Noi adesso non sappiamo i debiti, non conosciamo l'entità del deficit, non sappiamo qual è l'idea che ha la Regione, il Presidente, sul numero degli ospedali. Noi abbiamo notizie, non c'è ufficialità, ma vogliamo condividere le responsabilità, aiutare la Regione, perché sulla sanità non possiamo fare politica, non possiamo fare campagne elettorali, non serve a nessuno, perché abbiamo gente che muore in questa Regione, abbiamo gente che muore nel trasporto, abbiamo gente che muore negli ospedali che non sono attrezzati, o nell'incompetenza, o nell'impossibilità di dare risposte di qualità. E noi dobbiamo aiutare ad eliminare questo, questo è un handicap gravissimo. Noi ci dobbiamo fermare.